contro l'Inart la penetrazione lo scarico ancora per la tripla di Scott questa volta non va a segno ottima l'apertura di Rosselli per i due punti di Peric gran visione di gioco a parte di Guido Rosselli due punti rapidi sono un bottino più che rassicurante per i padroni di casa Rosselli in post basso contro Michele Vitale buona soluzione infatti arrivano due punti riporta meno 18 Venezia che passa a zona